Nella ASL Roma 1 tanta prevenzione, soprattutto al Santo Spirito, per quanto riguarda la donna. Ci racconta queste campagne? Sì, noi abbiamo organizzato una settimana di Open Week per la salute della donna, in cui in diversi posti dell'azienda sanitaria, Santo Spirito, San Filippo Neri, al centro Sant'Anna della ASL Roma 1, abbiamo organizzato proprio dei momenti di prevenzione, degli incontri in cui le donne sono potute venire, sia per lo screening, in particolare per l'attività senologica, ma anche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari delle donne, e anche per un counseling più generale su temi rilevanti in ambito ostetrico e ginecologico, anche con la presenza di psicologi, per esempio anche sul tema della violenza nei confronti delle donne. Quindi una settimana interamente dedicata a loro. Però non solo dedicata alle donne, perché avete preso anche iniziativa per quanto riguarda i più giovani, e addirittura siete andati voi da loro in delle piazze romane, giusto? Sì, soprattutto sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Noi riteniamo che si debba favorire l'accesso ai giovani, quindi andando proprio sulla strada, per esempio per la prevenzione, anche per i test, per l'HIV, e poi in generale anche per lo screening. Noi abbiamo organizzato per esempio il Banco della Salute in alcuni mercati rionali, proprio per andare incontro alle persone nei luoghi in cui le persone normalmente vivono e operano. E anche gli occhi, sbaglio? Avete fatto una campagna per quanto riguarda la vista? Sì, all'ospedale oftalmico facciamo i martedì dello screening, che sono delle sedute ambulatoriali dedicate per la prevenzione delle principali patologie oculari. Tutti questi esami e queste attività ovviamente sono libere con accesso gratuito. Noi diamo informazioni attraverso il sito aziendale, quindi anche il martedì prossimo, il 17 maggio all'oftalmico, è possibile accedere liberamente a questo servizio. Ecco, Dottor Tannese, quanto è importante la prevenzione, anche guardando al futuro, per un livello di costi sanitari? La prevenzione è fondamentale, questo non bisognerà mai smettere non solo di dirlo, ma anche di farlo. Noi spendiamo ancora troppo poco per la prevenzione, ma direi che a volte non siamo particolarmente efficaci nella comunicazione e nelle campagne. Quindi la campagna di prevenzione devono servire a rendere abituale nelle comportamenti delle persone una sana e regolare attività di controllo e di verifica in modo da prevenire le malattie. Questo ci consente di risparmiare, ma direi soprattutto di avere una vita più sana.